Il pubblico ha deciso che il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi è... Andrea Cerioli! Andrea, complimenti, tu sei il primo finalista di questa edizione! Complimenti da Andrea! Andrea, complimenti, questo è sicuramente un compleanno speciale, ma le sorprese non sono finite caro Andrea! Ci abbiamo messo un pochino più del previsto, ma i regali che tu hai richiesto ci sono! E le ha portati per te un rider! Facciamolo entrare! Grazie! 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 Grazie!